Un saluto a tutti Dalla redazione di Rossini TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine Il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia Prima di iniziare con questa nuova edizione Io vi ricordo sempre che i protagonisti del Vallefoglia Magazine Potete essere voi, il nostro pubblico Come? È davvero semplice Attraverso una vostra segnalazione Alle numero Whatsapp che trovate qua in sovrimpressione Oppure alla mail www.vallefoglia-rossinitv.it Potete inviarci di tutto Da semplici messaggi di testo Messaggi audio, foto e video E poi noi provvederemo a renderli pubblici Ed andare a trovare quali sono le notizie Ora però iniziamo con la prima notizia Di questo Vallefoglia Magazine Perché è stata una settimana importante Dopo il nuovo DPCM imposto dal governo Parliamo quindi di emergenza Covid-19 Noi abbiamo sentito il sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli Che è tornato a parlare di questa delicata questione Ma io innanzitutto vorrei ringraziare la comunità I cittadini, le attività produttive, le attività commerciali Perché diciamo fino ad oggi si è avuto un comportamento abbastanza importante Che ci ha consentito di avere Diciamo una situazione tutto sommato abbastanza sotto controllo Ovviamente come si sa è un male difficile da combattere Non c'è il virus E quindi bisogna evitare di costringere i sindaci A fare provvedimenti di chiusura contro assembramenti e attività varie Bisogna quindi rispettare rigorosamente le norme, le leggi, i regolamenti, i provvedimenti Che consistono sostanzialmente in primo luogo Ad avere sempre la mascherina soprattutto lo rivolto ai giovani E mantenere le distanze, l'igienizzazione Le cose che ovviamente sappiamo è che non è uno scherzo Bisogna rispettare Perché poi chiudere le attività produttive Vuol dire dare un colpo mortale all'economia Perché quando uno non ha lavoro Rischia o muore di covid o muore di mancanza di lavoro Di occupazione, di reddito e di opportunità Siccome la prima cosa per quel che ci riguarda e che mi riguarda È la tutela della salute E in primo luogo l'obiettivo del binomio lavoro-salute Perché noi puntiamo come sempre anche in questa fase drammatica Alla piena occupazione Quindi bisogna cercare di dare una mano Come hanno fatto molti cittadini di questa città Al rispetto rigoroso ferreo delle regole Perché quello consente di salvare la salute E di salvare anche i posti di lavoro Che sono un binomio incindibile Salute e lavoro per il benessere della comunità Prima di tutto viene la salute Tutti quelli che operano devono sapere Chi si lavora nei termini previsti dalle norme E la tutela assoluta della salute E la tutela del lavoro Che è un diritto importante Per fortuna qui sono molte le attività Che hanno idea di potenziare la loro fabbrica Hanno già ritirato le concessioni Per creare nuovi posti di lavoro Perché avere la piena occupazione Per noi è molto importante Gli eventi si fanno se si possono fare Qualsiasi attività si può fare Ma si può fare non facendo assembramenti Con gruppi molto ristretti E avendo quell'attenzione Perché prima di tutto bisogna salvare la vita E per le palestre è stata una settimana Da osservati speciali Dopo le parole delle Premier Conte In merito di una nuova possibile chiusura Noi abbiamo sediti i gestori delle palestre di Vallefoglia I quali ci hanno tenuto a ribadire Come quest'ultime sono dei luoghi estremamente sicuri E vengono rispettate tutte le norme Nella speranza che si possa non ritornare Ad una completa chiusura Che comporterebbe anche grosse perdite Dal punto di vista economico Non ci serve questa settimana Per metterci a posto con la situazione coronavirus Perché noi abbiamo aperto In funzione del coronavirus Quindi monitoraggio sempre di chi entra Con usurazione della febbre Autocertificazioni Covid Distanza di sicurezza Con i segni che si vedono a terra Due metri per due metri I corsi non hanno più di sei persone È tutto disinfettato Con detergenti disinfettanti A norma Per cui noi Non abbiamo alcuna paura Ovviamente sta nella responsabilità Nel buon senso delle persone Che se hanno sintomi influenzali Purtroppo non possono venire Ma per il resto Le palestre Almeno a mio avviso Sono un posto sicuro Siamo aperti da settembre E facciamo le corna Non è ancora successo nulla Quindi O non ci sono state segnalazioni Per cui Mi sembra un posto Dove il distanziamento c'è Anzi È indicata L'attività motoria Per prevenire Aumentare le difese immunitarie Non si può assolutamente Chiudere Anche per quelle persone Un pochino più deboli Che hanno bisogno di questo E se nella prossima conferenza stampa Dovessero ulteriori limitazioni Prima di arrivare alla chiusura Che non è stata comunque esclusa E da questo punto di vista Le tue osservazioni Noi ci atteniamo sempre A quello che ci viene detto Non possiamo fare di testa nostra Col virus non si scherza Se c'è bisogno si fa Ma ecco Ritengo quasi tutto Un pochino troppo eccessivo Secondo me Già come stiamo ora Siamo sufficientemente a norma E in sicurezza Le persone che vengono qua Non si sono mai lamentate È tutto pulito Non qua In generale nelle palestre Perché conosco colleghi Che anche loro Disinfettano la mattina e la sera Vai a distruggere il lavoro Cioè avresti persone a casa Che non sanno come andare avanti Non mi sembra il caso Diciamo che noi Per quanto riguarda La situazione delle palestre Abbiamo adottato Ogni misura di sicurezza Quindi mascherina obbligatoria L'entrata in uscita Anche durante l'allenamento Di tenere la mascherina Ecco magari Solo durante l'esercizio fisico Di abbassarla E per sporsarsi Per quanto riguarda Nella struttura Comunque sia di tenere La mascherina E i gel igienizzanti E i microfibe Per pulire i vari attrezzi Quindi con soluzioni A base di alcol E cose del genere Distanziamento Abbiamo messo tutti i vari cartelli Per quanto riguarda Anche di tenere Una certa distanza Anche durante gli allenamenti E diciamo che ecco Abbiamo cercato di fare Il possibile Per rendere la struttura Sicura E anche per quanto riguarda La nostra clientela Insomma abbiamo notato Che ecco Sono anche abbastanza Molto Diciamo Disciplinati Ecco Ecco appunto Con la clientela Che è disciplinata Dicevamo in precedenza Una settimana importante Si è probabilmente Anche in attesa Di un nuovo DPCM Che potrebbe comportare Anche l'utilizzo Della mascherina Obbligatorio In alcune attività E magari non In altre Tutto questo Nella speranza Che non si arrivi A quello che un po' Tutti temono Ovvero la chiusura Che sarebbe Un deficit grosso Esatto Anche perché Infatti un'altra chiusura Ci renderebbe Un pochino Diciamo Un po' inermi Nella situazione Non sapremo infatti Come affrontare Diciamo che il periodo Ecco è stato abbastanza Ecco Abbiamo accusato Ecco insomma Però Adesso cerchiamo Di riprenderci In modo Abbastanza Con una marcia in più Ecco Più di così Non sappiamo come fare Però Nel possibile Cerchiamo di fare Il nostro meglio Adesso aspettiamo Questa settimana Conte ha detto Che è una settimana Diciamo Di prova E poi Vediamo Nelle prossime settimane Come evolverà la cosa La situazione In realtà qua È abbastanza tranquilla Cioè nel senso Siamo tranquilli noi Perché comunque È un ambiente Super controllato Cerchiamo sempre Di tenere Tutto a posto Sanificazioni Pulizie Tutto quanto Chiaramente L'ingresso È solo Su prenotazione Quindi Non c'è nemmeno Rischio Di ritrovarsi Con troppa gente E quindi Non mantenere Le distanze Abbiamo cercato Di spostare Anche al meglio Tutte le attrezzature Di chiudere Le docce Addirittura In alcuni orari Serali In cui sappiamo Che magari C'è un po' Più di movimento E diciamo Che ce la stiamo Mettendo un po' Tutta Però Stiamo a vedere Cosa combina Questo weekend Esatto Perché si parla Anche di un nuovo DPCM Che potrebbe Comportare L'utilizzo Della mascherina Anche in determinate Attività fisiche E magari In altre no Tutto questo Nella speranza Che però Non si ritorni All'inevitabile Quello che tutti Non vogliono Ovvero la chiusura Totale delle palestre Esatto Allora L'utilizzo Della mascherina La vedo La vedo Molto dura Nel senso che Mentre uno si allena Cioè pure queste Che sono magari Le più leggere Sono Insopportabili Su di un attimo E non ce la fai A tenerle Quindi Spero Non sia Non diventi Obbligatoria Sta cosa Ecco E Per il resto Stiamo a vedere Speriamo bene La chiusura Mi auguro Proprio di no Cioè Due chiusure In un anno Sarebbero Veramente troppo E a proposito Di coronavirus E delle nuove Disposizioni Per i bar Che riguardano Nuove orarie di apertura E nuove orarie di chiusura Abbiamo parlato Con alcuni gestori In merito a questo Vediamo il servizio Una situazione Molto delicata Quella che riguarda I bar E dei ristoranti Che dopo il nuovo DPCM Saranno costretti Ad aprire alle 5 Delle mattina A chiudere Entro le 24 Un discorso Diverso Per quanto riguarda Il servizio al tavolo Perché dopo le 18 Potrà essere effettuato Solamente Questo tipo di servizio E' sempre richiesto Un grande rispetto Dal punto di vista Della gente E dei consumatori Per quanto riguarda Dei bar Con il rispetto Del distanziamento Almeno un metro Tra una persona E l'altra Mantenere sempre Al proprio volto La mascherina Igenizzarsi Le mani Una questione Molto molto Complicata E' quella che riguarda Anche come dicevamo In precedenza Il servizio al tavolo Dopo le 18 I bar Potranno solamente Servire le persone Al tavolo Altrimenti Saranno obbligati Alla chiusura Invece potrà continuare Il servizio Da asporto E di domicilio Il tutto Sempre nella speranza Che questa situazione Non sia gravi Anche nei prossimi giorni Nelle prossime settimane Siamo andati un po' A sentire Quali sono le opinioni Dei gestori Ci troviamo in difficoltà Per recuperare Questa mancata di ore Stiamo proponendo L'aperitivo anticipato Partiamo prima Sia con l'aperitivo Che con i concerti Così andiamo a recuperare Le ore finali Perse Per quanto riguarda Anche soprattutto Le limitazioni In questo momento Sei persone Al tavolo Questo può comportare Anche che magari Gruppi numerosi Di amici Di persone Ma anche di gente Che fa anche una pausa Lavoro Devono rinunciare In questo momento Certo Perché essendo Con questo nuovo decreto Siamo stati costretti A dire no A diverse persone Essendo posti limitati Tavoli Massimo sei persone Per recuperare Invece In questo caso Sto cercando Una nuova struttura Esterna Per poter ampliare I posti seduti Per quanto riguarda Invece La gente Che frequenta In questo caso Il bar Come si comporta E rispettano Tutti le norme Sì sì Sono tutti bravi Arrivano tutti Con la mascherina Anche perché Siamo costretti Ormai lo sanno tutti Arrivano anche da fuori Con la mascherina Ci sono stati anche Magari dei controlli Abbiamo avuto I controlli Li abbiamo tutti i giorni Da parte della polizia Forza dell'ordine Come giusto che sia La gente si comporta Molto bene A mezzanotte Capisce Che deve andare via E noi rimaniamo dentro A finire il lavoro La gente capisce Infortunatamente Un'ultimissima cosa C'è la preoccupazione Che si possa ritornare Ai mesi di marzo Di aprile Quindi di dover Chiudere E la preoccupazione Di tutti Di ritornare Al livello Di febbraio Marzo Di chiudere tutto Speriamo che questo Non accada A differenza Dell'altra volta La gente è molto più Preparata adesso Ha la mascherina Le distanze Le rispetta Speriamo Di non fare La stessa strada Sta andando bene Piano piano Ci stiamo riprendendo Il lavoro risale La gente ha meno paura Ovviamente Tutto con le dovute Precauzioni E niente Piano piano Riprendiamo Del tutto Come si sta comportando La gente che frequenta Il luogo Si rispetta Le distanze Mantiene sempre Le mascherine Da questo punto di vista Cosa vedi anche Nell'azienda E nel pubblico Rispettano Tutti Le precauzioni Le mascherine Sempre indossate Abbiamo due cartelli fuori Quindi li vedono E le mettono Anche se Se le dimenticano E quindi Su questo Niente Sempre Indossate Anche in base Al nuovo Un po' Riaumento Dei contagi Anche nuovi Di PCM Le nuove normative C'è la preoccupazione Che si possa ritornare Alla situazione Di marzo Di aprile E quindi Di dover Richiudere Siamo positivi Speriamo di no E speriamo Che vada tutto Come deve andare E che finisce presto Questa situazione E nonostante Il delicato periodo Che da mesi Stiamo affrontando C'è anche Chi ha raggiunto Un importante traguardo E' il caso Del sottopasso Longe Bar e nel restaurant Che ha festeggiato I dieci anni di attività Dieci anni di attività Sono quelli che festeggi Il sottopasso Longe Bar e nel restaurant Qui a bottega Di Vallefoglia Un bellissimo traguardo Che ha raggiunto Qua il suo titolare Giovanni Mengarelli Assieme a tutte le persone Che lavorano con lui Un traguardo Che viene raggiunto Anche in un periodo Molto particolare Quello dell'emergenza Covid E qui Che proprio Il locale Si è rinnovato Durante l'emergenza Riaperto con l'estate Con nuove modalità Con nuovi tavoli Con nuovo distanziamento Un locale Molto ampio dal punto di vista Delle dimensioni Che appunto oggi Festeggia i suoi dieci anni Di attività E noi gli facciamo Tanti auguri Siamo partiti Tra l'altro dieci anni fa Quando si paventava Una sorta di Fine della crisi Quando invece Si era già agli inizi Di una grossa crisi Ed è stata una scommessa Già da allora Festeggiarla quest'anno È Da una parte Un pochino Come dire Demotivante Perché avreste avuto voglia Di una festa Molto più Come dire Piena di gente Senza dover fare Nessuna forma di distanziamento Però simbolicamente Comunque È di nuovo Un ritorno Al non mollare A reinventarsi Ricostruirsi E ripartire con delle nuove realtà Questa Quindi è un ulteriore anno Della sfida Dopo dieci anni La gente come ha risposto Tu hai vissuto quindi Il pre-lockdown Il lockdown Il post-lockdown E poi di nuovo Questo momento Che sembra Riportarci un po' A quello di marzo Sì Diciamo che È stato un po' Un'altalena di emozioni Dalle prime negazioni Ricordo l'otto di marzo Che avevo un locale Stracolmo di gente Già dovevo combattere Con il distanziamento Come tutti noi Già da allora E io avevo Il sospetto Che questa cosa Andasse a finire peggio Così è stato La cosa che mi ha colpito molto È stata questa reazione emotiva Iniziale al lockdown Con una visione Di speranza globale Che poi non si è palesata In nessuna realtà Anche perché Come al solito La memoria delle persone È molto molto breve E quindi si fa svelto A dimenticare Quello che hai passato Dopo due mesi di chiusura L'estate è stato Uno sbrago totale Destinato ad alcune aree E questa cosa Secondo me Disorienta molto Le persone Le persone oggi Sono molto disorientate Quindi continuano A vivere Quest'altalena di emozioni Tra lieve speranza E depressione È un momento Un po' difficile Ed è in questo ambito Che tu devi Riplasmare Sia l'attività Che la socialità Del tuo luogo Fondamentalmente Ho visto Un grosso passimento Della Come dire Delle persone reali Mentre nella virtualità Le cose sono lievitate Perché forse La clausura forzata Ha portato le persone Ad utilizzare quel media In maniera ancora più intensa Rispetto a prima E quindi Questa trasmissione di vita Dal virtuale al reale C'è stata Oggi le persone Quando le vedi Passeggiare per strada Sono molto disorientate Fuori Come dire Dalla quotidianità Questo mi colpisce molto Tutte le volte Che vado in giro Un'ultima battuta Non te la posso Non chiedere Sul nuovo DPCM Quindi chiusura Alle 24 Il tuo locale So che lavorava molto Anche dopo Questo orario qua Su questo tuo Commento In base a questa situazione Che probabilmente So già magari Qual è il tuo pensiero Non è l'orario In sé per sé No L'orario Non è quello Che fa la differenza Innanzitutto Io do sempre Una fortissima responsabilità All'individuo Perché l'assembramento Non lo fa Nel DPCM Nel gestore di un locale Ma lo fa Le persone che si ammassano Di conseguenza Io Da persona Da cittadino Se mi appropingo A una zona A un'area A un locale Dove vedo che c'è Un assembramento alto Non ci entro E se come me Tutti facessero in questo modo Non ci sarebbe bisogno Nemmeno dei DPCM Perché la gente Si diluirebbe da sola Nelle varie aree Di conseguenza Penso che la responsabilità Più grave Ce l'abbiamo Come al solito Noi Mentre La chiusura anticipata Dei locali È una sorta di panacea Per far vedere Che stai facendo qualcosa Quando in realtà Non ha nessun senso Perché anzi Secondo me Comprime L'uscita di più persone In un orario più corto Di conseguenza Se prima uscivano Mille persone Nell'arco di ore Che andavano Dalle 8 Alle 3 di mattina In questo momento Tu quelle Mille persone Le comprimi Dalle 8 a mezzanotte Sapendo pure Che comunque Non abbiamo tradizione Del lavoro corto Il pomeriggio Quindi la gente Sce tardi dal lavoro Deve sistemarsi Prepararsi Prima delle 9 Fa fatica a uscire A cenare Di conseguenza Questa compressione D'orario Crea soltanto più Assembramento Rispetto A quello che era prima Se noi fossimo Tutti più responsabili Sarebbe tutto Molto più facile Come dicevo E quindi Aspetto Aspettiamo Di transitare Questo periodaccio Perché tanto Di questo si tratta Speriamo di Passarla In maniera tranquilla Ma invito Soprattutto la gente A non aver paura Di uscire Di muoversi E di vivere Una socialità Ma sempre Rigorosamente Dietro le regole Abbiamo capito Che il distanziamento E la sanificazione Delle mani Di conseguenza E non assembramento E seguire tutti i giorni Queste piccole norme Ci preserva Sicuramente Dal contagio Siccome non è una cosa Che finisce domani Invito tutti A seguire queste forme L'Unione dei Comuni Piane del Bruscolo Nella seduta Dell'Unione Ha provveduto Alla ratifica Della deliberazione Della giunta Esecutiva Di variazione D'urgenza Alle bilanze Di previsione Finanziario 2020-2022 Con i contributi Ministeriali ottenuti E' stato istituito Un fondo Di emergenze Imprese E istituzioni Culturali Destinate Allo sostegno Delle librerie E dell'intera filiera Dell'editoria Nonché Dei luoghi Della cultura Oltre 17.000 euro Sono state destinate All'acquisto di libri Per le biblioteche Di Vallefoglia E Tavuglia Il senatore Ucchielli Presidente Dell'Unione Pian del Bruscolo Ha espresso soddisfazione E invita la cittadinanza L'attivazione Dei presidi bibliotecari Per una buona lettura E ora parliamo Di una bella iniziativa Avvenuta a Colbordolo Dove sono stati assegnati Cinque nuove alloggi Di edilizia Residenziale pubblica In via Caravaggio Gli alloggi Sono stati consegnati A cinque nuclei familiari Residenti Nelle comune Di Vallefoglia Ma sono cinque alloggi Che la regione Ha comprato Qui a Colbordolo E' importante In via Caravaggio Un bellissimo luogo Che guarda il mare Sono cinque nuclei familiari Che avevano estrema necessità Di casa E quindi Penso che sia una bella giornata Abbiamo chiesto Alla regione Di acquistare Altri 15 alloggi Quattro Nella ex caserma Dei carabinieri Di proprietà del comune Sempre a Colbordolo E una decina di alloggi Di un fallimento Già in costruzione Ma in completà Di assegnati Che sono In località La Psella Quindi importante Dare una risposta Non solo del lavoro Ma anche della casa E del benessere Bellissime case Come vedrete Sono piccoli appartamenti Ma molto carini Pensiamo che sia Una bella giornata Beh devo dire Quando si riescono A consegnare Nuovi alloggi A persone che hanno bisogno È sempre una bellissima giornata In questo caso Parliamo Siamo a Colbordolo Dove come regione Marche Qualche anno fa Avevamo modificato il piano Prevedendo una serie Di investimenti Soprattutto in quei territori Dove c'era una lista Di persone Che avevano necessità Oggi consegniamo Cinque alloggi Un investimento Di circa 600.000 euro Ma devo dire La cosa di cui Sono più orgoglioso Oltre ovviamente A consegnare alloggi A persone che hanno bisogno È che questa scelta Che abbiamo fatto Di andare a non fare Nuovi alloggi Cioè costruire nuove case Ma andando ad acquistare Come regione Come ERAP Edifici già esistenti Questa è stata Una scelta importante Perché da una parte Ha consentito Magari ad imprese Che erano in difficoltà Di poter vendere Di poter come dire Evitare anche magari Momenti particolari Difficili Ma quindi di costruire Il costruito Non consumo di suolo Ma anche di riuscire A realizzare E consegnare gli alloggi In tempi sicuramente Molto più rapidi Diciamo che oggi Sto vivendo Due tipologie Di inaugurazione Una Che è l'essenza Di questa cosa La consegna Di questi cinque Alloggi popolari A cinque famiglie Che ne avevano Evidentemente necessità E che ne hanno avuto L'assegnazione Oltretutto Sono case anche Molto carine Adatte Quindi Più che dignitose Per viverci Con serenità La seconda inaugurazione Tra virgolette Questa è una battuta È la mia prima uscita Da assessore Anche Alla residenza popolare Che ho da tre giorni Come assessore Appunto Della regione Marche Ma sono proprio Voluto essere presente Perché sto avendo Momenti molto caotici Quindi difficilmente Anche riesco Ovviamente A far fronte Ad ogni Evenienza D'esigenza In queste ore Mi devo ancora Organizzare A livello regionale Però ho voluto Invece esserci Perché la consegna Di alloggi popolari In questo momento Vogliono dire Molte cose Intanto vuol dire Dare una risposta Delle famiglie Che ne hanno bisogno Intanto vuol dire Porre l'attenzione Proprio sui bisogni Più impellenti Delle persone Quelli della casa Della vita dignitosa Della ricerca Di un lavoro Un domani Eccetera Insomma Tra le tante esigenze In questo momento Tre Porre anche l'accento Sull'attenzione Di non ripiombare Speriamo di nuovo In una crisi profonda Per la quale Insieme Invece Temo che siamo Un po' predisposti Parlo di Italia Non parlo Di questa regione O di questo comune Purtroppo Questo covid Che sta fortemente Ritornando in auge Ci potrebbe porre Seri problemi Anche dal punto di vista Economico Sociale Un po' Non voglio essere Adesso Diciamo Portatore di sfortune Ma potrebbe tornare Un qualcosa Di molto simile A quello che abbiamo Vissuto qualche mese fa E allora Occorre Ancora di più In questa situazione Porre l'accento Proprio sui bisogni Primari E prioritari Delle famiglie Quelle del lavoro Quella della casa Ovviamente Quella della salute Ecco Qui oggi Ne identifichiamo Uno in particolare Quello della casa E la mia presenza Ripeto qui Vuole essere proprio Un segnale di attenzione Verso chi ne ha più bisogno Verso chi più debole Ma è anche fare un plauso Chi come i funzionari Dell'ERAP Come gli amministratori locali E la stessa regione mare Che ha fatto finora Deve continuare Anche in prospettiva Cioè l'attenzione Proprio a questi temi Tramite anche La consegna Di case popolari Anche in prospettiva Anche in futuro Particolarmente Come in questo caso Costruendo sul costruito Quindi la ristrutturazione Di tanti immobili Che i comuni Mi hanno inutilizzati Di quegli immobili Che provengono Anche da fallimenti Di dette Che sono rimaste Delle brutture Sul territorio Quindi come dire Danno una risposta Alle famiglie Ma anche alla ristrutturazione Di immobili Che sono in degrado Che sono delle brutture Particolarmente in borghi Come qui oggi A Colbordolo Che spesso Temono e vivono Lo spopolamento E questo invece Può essere un modo Proprio per incrementarne Anche la vivibilità E la permanenza Di nuclei familiari Stanno per evolgere A termine i lavori Al campo sportivo Una situazione Quella dello sport Strettamente connessa All'emergenza Covid-19 Con chi ha potuto Continuare le attività sportive E chi invece Ha dovuto fermarsi Ci troviamo di fronte Al campo sportivo Di Morciola Dove nelle prossime settimane Verrà inaugurato Il nuovo Morciola Sporting Con le nuove tribune Nella speranza poi Che l'inaugurazione Possa venire Anche dopo questo momento Che stiamo vivendo Un momento molto molto complicato Per tante attività sportive Ne abbiamo parlato Con l'assessore allo sport Mirko Calzolari Qua di Vallefoglia Tante attività Hanno continuato Come ad esempio La pallavolo Come ad esempio Le calcio Tante attività invece Soprattutto per i più giovani Sono in sofferenza Alcuni che non sanno Se poter continuare Altri invece Che devono smettere Chi sta soffrendo di più Sono magari Anche gli sport Tra virgolette Chiamiamoli minori Che magari hanno Meno iscritti Ma sentiamo le parole Dell'assessore Sì Proprio questi giorni Con il sindaco Stiamo decidendo Quando fare l'inaugurazione I lavori si stanno Terminando Stanno volgendo al termine Siamo molto soddisfatti Di quello che Dell'obiettivo raggiungere Insomma Un campo sintetico 100x60 Che permette di giocare Fino a categorie importanti Con una bella tribuna Un'illuminazione nuova LED Quindi Sarà un bel luogo Di ritrovo Quando tutto sarà più Possibile Con i ragazzi Un luogo di socializzazione Di convivialità E soprattutto di sport Di attività fisica Per i molti giovani Del nostro territorio Quindi a breve ci sarà L'inaugurazione Un risultato importante Un campo dove Abbiamo un contratto Trentennale Dell'utilizzo Con la parrocchia Quindi siamo soddisfatti Del risultato Che si sta ottenendo Indirittura d'arrivo Per quanto riguarda Le attività sportive Molte sono riprese La pallavolo Il calcio Con l'atletico Gallo col bordolo Molte riprenderanno Anche in questo fine settimana Alcune invece Hanno dovuto interrompere Prima di ricominciare A causa del nuovo decreto Sì Un equilibrio complicato Con questa pandemia Che tutti conoscete E le attività più importanti Le squadre più Di categorie elevate Insomma hanno iniziato Anche le loro attività agonistiche Ad esempio La Megabox Ha iniziato Il proprio campionato In serie A2 Di pallavolo Con ottimi risultati E il prossimo fine settimana Vedrà anche un incontro importante Un quasi derby Con il San Giovanni In Marignano Anche nel calcio L'atletico Gallo col bordolo Ha già iniziato Il suo campionato Di eccellenza E invece In promozione L'Azzurra Cappa Sport Montecchio Inizierà proprio questo Fine settimana Con l'esordio Casalingo Naturalmente Mantenendo le distanze Rispettando tutti i protocolli Da questo punto di vista Tutta l'attività sportiva giovanile Vive un momento un po' delicato C'è la volontà La voglia dei ragazzi Insomma di partecipare Di uscire Di fare aggregazione Nel contempo C'è da rispettare Tutte le normative I protocolli Che le federazioni Hanno imposto Giustamente Di cui bisogna stare Molto molto attenti Quindi È una buona situazione Da macchia di lopardo Alcune attività giovanili Possono svolgere Anche i loro campionati Altre sono state interrotti E quindi Questa è la situazione Al momento E come vedete In tutte le situazioni Della vita quotidiana Insomma Ci sono aggiornamenti Settimanali Siamo in attesa Anche di nuove direttive Da parte delle federazioni E concludiamo Proprio parlando di sport Nelle campionato Di Serie A2 Di volley femminile Dopo il turno Di riposo Della scorsa settimana La Megabox Vallefoglia Torna a giocare Alle palla di Unigi Di Montecchio Contro la OMAG San Giovanni Marignano La squadra Renata da coach Fabio Bonafede Arriva a questa Settima giornata Occupando il secondo posto In classifica Con 11 punti Al pari di Soverato In questo momento A guidare Il girone est Di Serie A2 E Cutrofiano Con 13 punti Nelle calcio Nelle campionato Di eccellenza Nella quarta giornata L'atletico Gallo Colbordolo Pareggia 1-1 in casa Contro l'atletico Azzurra Colli Per il rosso-blu È una rete di calvaresi A pareggiare i conti A rispondere alle gole Di Stipa Ora Il legale Alle secondo posto In classifica Con 7 punti A pari merito Con Vigor Senigaglia Biagio Nazaro E Jesina Alle primo posto C'è proprio L'atletico Azzurra Colli Con un punto di vantaggio A quota 8 E siamo giunti Alle termine Di questa nuova edizione Delle Vallefoglie Magazine Io vi ringrazio Sempre per essere stati Con noi qua Su Rossini TV Canale 633 Delle Digitale Terrestre Vi rinnovo L'appuntamento Venerdì prossimo Sempre alle ore 19 E vi auguro Una buona serata Delle Digitale Terrestre